Ciao! Allora, sono tornata, non so dove devo guardare, credo qui, sì, qui, 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 sì, 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 stasera sono molto chic, sono tornata per dirvi che sono tornata, e soprattutto che questa settimana mi fa male un po' tutto, no vabbè, registrerò magari un video serio. Comunque questo video è risposta a una ragazza che mi aveva chiesto di dirgli cos'è secondo me l'amore, mi è arrivato un messaggino, l'amore secondo me è una forma di masochismo, nel senso che noi ci innamoriamo, giusto, convinti che sia la cosa più felice al mondo, ma sappiamo che nulla dura per sempre, tra i casi ma non dura mai per sempre, ci innamoriamo, pur sapendo che finirà, e staremo male. Quindi, noi andiamo incontro a ciò che ci farà male. Quindi secondo me l'amore è una forma di masochismo, quindi un po' una merda. Però nonostante tutto è la cosa che, diciamo, dà forza alle persone. Perché? C'è l'amore per le amiche, l'amore per la famiglia, l'amore per il fidanzato, l'amore per gli animali, l'amore per delle passioni. E tutti questi amori comunque danno straforza. L'amore per me stessa, per esempio. Ma avete visto quanti brufoli che ho? Non so perché mi sono venuti questi brufoli. Cioè, devo guardare lì per guardare voi. Sì, vabbè, fa niente. Io guardo me stessa. Voi lo sapete che sono un po'... un po' pazza. I miei capelli biondi? Sì? Ne vogliamo parlare dei miei capelli biondi? Meglio di no, eh? Comunque, in questo video volevo salutare quella bellissima gnoccona, e dico gnoccona! Dov'è? Qua. gnoccona, di Camilla Milanesi, che è il top del top. E salutare ovviamente Candy Cat, che mi ha salutato. E per la prima del video sono stata troppo mega contenta. E niente, quindi vi amo tutte e ci vediamo mega presto.